Questo è un LED COB, da COB, chip on board. È un chip sul quale è presente un gruppo di Diodi LED così vicini tra di loro da comportarsi come un emettitore singolo puntiforme. L'angolo di emissione luminosa di un LED COB è in genere di 120 gradi. Per concentrare e quindi intensificare questo fascio di luce vengono abitualmente utilizzate le parabole riflettenti. Questi accessori si distinguono sia per le dimensioni che per il tipo di lavorazione interna. Le più diffuse sono, come questa, imbugnato martellato. Quelle più efficienti, ossia quelle che a parità di dimensioni sono in grado di produrre il fascio di luce più intenso, sono quelle sfaccettate, come questa qua. In ogni caso, l'utilizzo di una parabola modifica in maniera determinante l'emissione luminosa di un LED COB. Vediamo qualche esempio. Questo è il LED nudo. Siamo a 2.8,3 su un angolo di emissione di 120 gradi. Questa invece è la parabola martellata. Siamo a 2.8,8 e il fascio è di 90 gradi. Questa infine è la parabola sfaccettata. Siamo a 5.6,3 su un fascio di luce di 80 gradi. Quindi montando la parabola sfaccettata abbiamo guadagnato al centro della proiezione due stop. Abbiamo ottenuto un'intensità luminosa 4 volte superiore rispetto a quella che ottenevamo utilizzando il LED nudo. Se però misuriamo l'esposizione fuori asse, anche solo a pochi gradi dal centro del fascio luminoso, il risultato cambia. Questo è il LED nudo. Siamo a 2.8,2. Solo un decimo di stop al di sotto della lettura centrale. Questa è la parabola martellata. Leggiamo 2.8,6, quindi due decimi di stop al di sotto della lettura centrale. La differenza è ancora minima. Questa è la parabola sfaccettata. E leggiamo F4,3, quindi ben uno stop al di sotto della lettura centrale. Ciò significa che la proiezione ha perso moltissimo in termini di omogeneità. C'è un evidente hotspot centrale. Questo è un problema tipico legato all'utilizzo di parabole sfaccettate. C'è poi da considerare che due parabole, anche a parità di dimensioni e di lavorazione interna, possono offrire risultati diversi. Due parabole tecnicamente identiche possono comunque differenziarsi sia per la capacità di intensificare il fascio luminoso che per quella di mantenerlo omogeneo e inalterato dal punto di vista cromatico. Tutto questo dipende dai materiali utilizzati, da come è progettata la martellatura o la sfaccettatura e dalla compatibilità del disegno della parabola con quello del proiettore. Il fatto che il COB vada posizionarsi più o meno avanti all'interno della parabola, per esempio, è determinante. Per questo motivo i LED COB dovrebbero essere sempre corredati in una parabola appositamente progettata per la loro struttura e le loro specifiche. O meglio ancora due parabole, una martellata e una sfaccettata. In ogni caso, anche le migliori parabole a corredo dei LED COB introducono un problema, ossia emettono luce in maniera disordinata. E questo si traduce nella creazione di ombre multiple. Anche in questo senso le parabole sfaccettate sono più problematiche di quelle martellate. Questo è il LED nudo. Le ombre sono nette e pulite. Questa è la parabola martellata. Si notano subito le ombre multiple. Questa è la parabola sfaccettata. La situazione è ancora peggiore. Le ombre multiple sono ancora più evidenti. La vera soluzione è quindi utilizzare un diverso tipo di intensificatore, ossia una lente. Se il proiettore LED dispone di attacco Bowens, come la maggior parte dei proiettori LED COB, è possibile utilizzare dei modificatori come questo, che dispone di lente di Fresnel e di comando Zoom per modificare l'ampiezza del fascio luminoso. Oppure è possibile acquistare direttamente una lente, come questa qua, che con un po' di inventiva può essere montata su un attacco Bowens. Io preferisco senza dubbi questa seconda soluzione perché è molto più leggera, molto meno ingombrante e la maggior parte degli Zoom Fresnel montano delle lenti in plastica di scarsissima qualità. Lo si nota soprattutto via via che ci si avvicina alla proiezione spot. Le ombre si fanno sempre meno nette ed è sempre più difficile tagliare con precisione il fascio luminoso. Questa lente invece è una piano convessa in vetro borrosilicato anti-alo e non presenta alcuno di questi problemi. Questo è il Fresnel, alla massima ampiezza del fascio luminoso, quindi in posizione flood a 42 gradi. Le ombre sono pulite ma i contorni non sono più netti. Questo è il Fresnel in massima posizione spot. Le ombre continuano ad essere pulite ma i contorni sono ancora meno netti. Questa è la lente piano convessa. Le ombre sono pulite e i contorni sono netti. Va considerato che l'effetto di una lente varia molto in relazione alle dimensioni e alla distanza dell'emettitore che la illumina. Quindi, mentre un proiettore che nasce per essere utilizzato con una lente è ottimizzato per la lente o le lenti dedicate, quando si utilizzano questi aggiuntivi ottici come universali, i risultati possono variare anche in maniera estrema tra un proiettore e l'altro. Questo è il Fresnel montato sul proiettore dedicato a 42 gradi e a 12 gradi, quindi al massimo flood e al massimo spot. Facciamo ora la stessa cosa su un proiettore di terze parti. Qui siamo in massima posizione flood e qui siamo in massima posizione spot. La differenza è irrisoria. Anche dal punto di vista dell'esposizione il guadagno è veramente minimo. Questo discorso però vale sia per lo zoom Fresnel che per la lente singola. Quindi, per quanto mi riguarda, in questo caso, come spesso accade, vince comunque il DIY. Anche dal punto di vista della stara di risultazioneытica, grazie a tutti ifrò. Grazie.